L'accesso alla finale di Serie C Gold, la promozione in C-Silver. Al via domenica prossima tre serie cruciali nei play-off dei principali campionati cestestici di Puglia. Dopo la sosta pasquale si riprende con le semifinali del massimo torneo regionale che vedranno di fronte Lecce e Ruvo da una parte, Monopoli ed Ostuni dall'altra. Al Palaventura-Salentino si sfideranno la prima e la quarta forza della stagione regolare. Il bilancio degli scontri diretti della prima fase è però in perfetta parità. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta al Palacolombo dove i ruvesi si imposero per 87-82 infliggendo alla capolista il primo dispiacere della stagione. Un K.O. vendicato poi sportivamente nella partita di ritorno che vide Lupalecce prevalere per 77-61. Ai quarti la squadra di Di Salvatore ha eliminato Monterone in due soli incontri mentre l'hanno spuntata su Ceglie e solo la bella casalinga ai ragazzi di Patella che a questo giro disputerebbero invece l'eventuale sfida decisiva sul campo degli avversari. Palla a due prevista alle ore 17. Chi passa se la dovrà vedere con la vincente di una semifinale altrettanto incerta, quella fra Monopoli ed Ostuni. La squadra di Ambrico ha chiuso davanti a quella di Romano ma è uscita sconfitta da entrambi i confronti diretti. I gialloblu infatti si sono imposti per 79 a 59 ad Ostuni e per 90 ad 83 a Monopoli l'ultima volta due mesi fa. Stavolta non si gioca alla palestra Melvin Jones ma al palapinto di Mola di Bari per incoraggiare una maggiore affluenza di pubblico. Inizio alle ore 18.30. Nella finale dei playoff di Serie C Silver infine Angel, Manfredonia e Pallacanestro Molfetta si contenderanno l'accesso diretto alla Serie Superiore. Entrambe sono reduci da due semifinali portate a gara 3 da Barletta e l'altra Molfettese Virtus a riprova di un campionato che si sta mantenendo incerto. Sino all'ultimo atto si inizia al Palace Caloria della località garganica a partire dalle ore 19.